Il governo, il centro-destra, il governo, c'erano altri punti di equilibrio se non quello di rivolgerci al Capo dello Stato affinché potesse rimanere in carica, anche in Parlamento c'era un forte movimento a sostegno nei gruppi parlamentari, c'era un forte movimento a sostegno in Altarella quindi ascoltando i cittadini che chiedono di fare in fretta i mercati che hanno bisogno di essere rassicurati, scelta migliore in questo momento non era possibile fare, Mattarella ha dimostrato di essere un eccellente Capo dello Stato e continuerà a essere quello che è stato in questi sette anni equilibrio, serietà, garanzia della Costituzione, dell'unità nazionale, equilibrio, rispetto, impegno a difesa dei diritti civili, europeismo, atlantismo quindi ha fatto bene durante questi sette anni e credo che anche nei prossimi continuerà a fare bene Grazie